Dunque, negli anni 90 del 400 si comincia ad assistere a qualche inclinatura in questa certezza botticelliana nella filosofia neoplatonica, nell'idea di perfezione della corte laurenziana, non solo di Botticelli ma dell'intera corte laurenziana che sarà appunto destinata a chiudersi, a franare come esperienza proprio alla morte di Lorenzo il Magnifico. Queste inclinature porteranno a una ruttura e a un repentino cambiamento dei soggetti e dello stile dell'artista e ad un passaggio da questo periodo d'oro in cui si rappresentano scene fondamentalmente mitologiche sull'onda delle parole di Ficino e della filosofia neoplatonica affrontata nell'Accademia Fiorentina per ritornare a un ripensamento dei temi invece religiosi. Per questo motivo si parla di periodo mistico, gli eventi storici che si sviluppano nel corso del 400 condizioneranno in maniera profonda le idee e il modo di operare dei Botticelli e appunto la storia in questo caso corrisponderà ad una variazione quasi assoluta, quasi totale nei modi, nei temi, nei soggetti, nel modo di affrontare questi soggetti di Botticelli. Una storia che ha il suo momento fondamentale proprio nel 1492 con la morte di Lorenzo il Magnifico. Noi conosciamo universalmente il 1492 come la data di scoperta dell'America per la storia italiana, la scomparsa del lago della Bilancia, cioè di colui che riusciva a mantenere in equilibrio questi potentati, questi stati italiani preunitari. Quindi è un momento assolutamente fondamentale. Noi sappiamo che dopo la morte di Lorenzo il Magnifico gli eventi porteranno a una caduta politica che appunto franerà nelle guerre d'Italia e nel utilizzo della penisola italiana come scacchiera politica e soprattutto militare per le guerre d'Italia. Di conseguenza questo è un evento fondamentale anche per quello che succede a Firenze. Dopo Lorenzo dei Medici, come succede molto spesso, il figlio di Lorenzo dei Medici, Piero, non è all'altezza del padre. Nel 1494 viene cacciato da Firenze Piero perché aveva in qualche modo favorito, era stato incapace di ostacolare, di avere una politica chiara nei confronti di Carlo VIII. Carlo VIII scende in Italia passando da Lombardia, dalla Toscana, dallo Stato della Chiesa per raggiungere Napoli. I fiorentini non prendono bene tutta una serie di eventi di questo momento, di questa fase politica, cacciano i Medici, la stella dei Medici sembra tramontare e alla caduta dei Medici cade ovviamente anche tutto l'ideale di perfezione, di magnificenza, di humanitas, di equilibrio, di armonia che sarebbe stato appunto il portato del governo dei Medici e contemporaneamente su queste macerie si innestano i sermoni di Savonarola che prende il potere, Savonarola con le sue idee millenaristiche, con i suoi sermoni sul giudizio universale, con la sua necessità di combattere la corruzione, la ricchezza, il fasto, il lusso e col suo portare a Firenze una religiosità ed un governo assolutamente rigoroso, austero, severo e questo modo di presentare la religiosità e di condannare tutta una serie di vizi sarà fondamentale appunto anche per Botticelli perché in questo modo di condannare i vizi rientra anche la condanna di tutta una serie di manifestazioni artistiche. Botticelli si fa l'idea sull'onda delle parole di Savonarola per quanto a differenza di quello che dice Vasari Botticelli non si legherà mai direttamente ai piagnoni e a Savonarola, Botticelli rimane semplicemente scosso dall'idea di aver contribuito con la sua arte all'affermazione di una bellezza che secondo appunto Savonarola va contro la morale cristiana, quindi si pente di questo suo atteggiamento fino ad arrivare nel 1497 a bruciare alcune delle sue opere in un ruogo delle vanità, un ruogo nel quale si bruciavano appunto mobili particolarmente ricchi, opere d'arte, libri, vestiti, quindi stoffe preziosissime sempre con quest'idea della necessità di rigore religioso, rigore appunto che si ottiene anche attraverso il fuoco, fuoco che sarà fatale però nell'anno successivo proprio a Savonarola Savonarola nel 98 sarà prima scomunicato, poi condannato, impiccato e poi arzo in piazza della signoria e questo sarà un ulteriore motivo di difficoltà, di comprensione per Botticelli Botticelli che aveva aderito perfettamente agli ideali neoplatonici, a questa ricchezza di ispirazione classica che avrebbe portato il regno dell'Humanitas poi si pente e aderisce in qualche modo a questo fermento, a questo fervore religioso attraverso una forte crisi interiore e nel 98 però vede bruciare al ruogo colui che in qualche modo l'aveva convinto anche se in maniera appunto non diretta delle sue idee va detto che nonostante il ruogo di Savonarola, nonostante poi anni dopo i medici ritornino a Firenze per Botticelli la conversione è ormai avvenuta e quindi diciamo le idee della conversione religiosa di Botticelli modificheranno fortemente il suo modo di fare arte appunto dalla fine degli anni 90 in avanti e non ci sarà un ritorno ovviamente da questo punto di vista, anche perché il rovello spirituale di Botticelli era cominciato addirittura prima della morte di Lorenzo il Magnifico se noi diamo un'occhiata per esempio a questa che è un'opera, una tavoletta abbastanza piccola ma molto significativa degli anni 90-95 quindi a cavallo diciamo della morte di Lorenzo il Magnifico già vediamo qualcosa che apparentemente ci sembra un'esaltazione del mondo classico con questa scenografia albertiana, questi bassi rilievi dorati, questi elementi, queste figure anche queste così ritagliate nello spazio attraverso la linea di contorno e che sono tutte personificazioni tratte appunto dalla mitologia, dal mondo classico ma poi ci rendiamo conto guardando, osservando con attenzione che si tratta invece proprio di mettere in dubbio di una critica alla giustizia del mondo pagano quindi è un processo, una cultura pagana perché la verità è una verità divina è qualcosa che sta in cielo come vedete nella figura alla vostra sinistra che rappresenta appunto la nuda verità che sta indicando il cielo come dire la giustizia non è di questo mondo cosa si rappresenta in quest'opera? Questa è un'opera tratta dal racconto letterario di Luciano di Samosata che descrive la Calugna, cioè un dipinto di Apelle dipinto ovviamente andato perduto ma questa descrizione viene ripresa da Andrion Battista Alberti nel suo Repittura e Botticelli attraverso questa descrizione ricostruisce il dipinto di Apelle dipinto appunto della Calugna dove c'è questa serie di personificazioni una lettura che va dalla vostra destra alla vostra sinistra riconosciamo Remmida come cattivo giudice lo vediamo perché ha gli orecchi d'asino che è ovviamente mal consigliato da ignoranza e sospetto ai suoi piedi abbiamo il livore e la calugna che si tengono per mano il livore vuol dire il rancore no? che appunto va sempre a braccetto con la calugna la calugna che a sua volta è pettinata quindi in qualche modo vezzeggiata accompagnata dalla frode e dalla perfidia e attraverso questa combinazione di vizi il calugnato è trascinato davanti appunto il cattivo giudice e non ha nessuna possibilità di scampo di salvezza perché da una parte vediamo il rimorso invecchiato nella sua incapacità di operare quindi incappucciato perché si vergogna e invecchiato che guarda la verità la verità che non può fare niente per il calugnato perché la verità appunto non è di questo mondo già in questo elemento simbolico del mettere in dubbio la capacità di giudizio del mondo pagano si legge questo ripensamento del neoplatonismo verso un misticismo che si sta affacciando in maniera abbastanza prepotente oltre a questo noi vediamo che questa architettura perfettamente scorciata dove si ritrova una serie di elementi classici albertiani contiene però al suo interno delle figure legate al mondo religioso una per tutte dietro al trono di Mida vediamo la scultura con Giuditta con ai suoi piedi la testa di Oloferne quindi il collegamento comunque col mondo cristiano il mondo classico che cede al mondo cristiano in questo senso sì nel senso del passaggio che è quello che poi abbiamo già visto anche in Mantegna mondo classico come qualcosa di ideale ma che deve cedere la via al mondo cristiano che invece porta e apportatore di giustizia quindi una serie di elementi che cominciano a descrivere questa forte inclinatura che si paleserà in maniera assoluta dopo la morte di Lorenzo del Magnifico e soprattutto dopo la cacciata dei medici da Firenze che vedono proprio crollare gli ideali di questa corte che crede nella giustizia del governo medicio quindi diciamo i sogni si infrangono questo castello di carta della Humanitas del regno medicio della signoria medicia si infrange dopo la cacciata di Piero e i soggetti diventeranno appunto soggetti fondamentalmente religiosi in questo compianto su Cristo morto dell'Alte Pinacotec di Monaco noi vediamo un pathos una violenza espressiva un contorcimento delle figure a volte un contorcimento addirittura innaturale vedete le teste sembrano disarticolate rispetto al collo al busto lo vediamo per esempio sia nel San Giovanni Evangelista che nella Maddalena che tiene i piedi del Cristo che appunto non hanno più nessun interesse per la prospettiva per la correttezza anatomica per la proporzionalità quello che si vuole sottolineare è proprio l'emozionalità il ragionamento tra l'altro su questo momento perché vi faccio notare che non si tratta di una narrazione storica biblica perché i personaggi che assistono a questo compianto tra i personaggi che assistono al compianto abbiamo San Paolo, San Pietro e San Girolamo che ovviamente non hanno assistito al compianto sul Cristo morto la stessa cosa noi vedete l'estrema espressività la vediamo anche in un altro compianto quello del Pol di Pezzori dove c'è questa composizione perfettamente piramidale ma che però è fatta di un avvincersi di membra, di teste come se fosse una spirale di carni che sottolinea evidentemente il dolore del momento la riflessione su questo dolore insieme alla pietrosità dello sfondo di questo avello scoperto che inquadra in qualche modo l'intera scena quindi una trasmissione di sentimento che non era stata fino a questo momento tipica di Botticelli pur mantenendo in qualche modo questa forte linea di contorno questa marcata linea di contorno che però in questo caso non vuole essere decorativa vuole semplicemente sottolineare proprio la potenza diciamo così espressiva del momento fino ad arrivare alla natività mistica che possiamo considerare l'opera capitale di questa fase diciamo in qualche modo la chiusura dell'esperienza di Botticelli Botticelli del quale Vasari dirà vecchio, disutile, infermo e decrepito quindi una visione chiaramente filomedicea per Vasari e quindi in qualche modo attacca questa fase di rinnegamento di Botticelli ma un giudizio abbastanza netto abbastanza negativo una natività mistica definita così perché non è solo una natività contiene al suo interno una natività ma anche l'adorazione dei magi che vedete sulla vostra sinistra un'adorazione dei pastori sulla vostra destra quindi l'angelo rosa che introduce i magi l'angelo bianco che introduce i pastori e poi vedete il gesto di concordia delle tre virtute ologali fede, speranza e carità che vedete rappresentate due volte sul tetto diciamo così sulla tettoia della grotta che pregano e leggono da un libro e sotto che abbracciano delle persone in questo segno di concordia e infine in alto questo girotondo di angeli che invocano la venuta del Cristo la seconda venuta del Cristo e quindi in qualche modo un legame col giudizio universale con l'Apocalisse di Giovanni quindi vedete un'infinità di temi che si combinano fra loro per esempio l'abbraccio che vedete sotto fra i tre angeli vestiti con i colori delle virtute ologali dimostrano la necessità del desiderio di concordia tra il cielo e la sfera terrena dopo che appunto Firenze ha subito rivolgimenti di ogni genere la cacciata dei medici poi il rogo di Savonarola ecco l'artista mostra il suo desiderio di concordia fra le persone e questa concordia che riesce a scacciare come vedete Satana, il diavolo, i demoni che rientrano si infilano sotto la pietra ritornano negli inferi a questa complessità diciamo concettuale corrisponde una complessità stilistica qui non c'è più nessun interesse per la prospettiva vedete che questa strada che sale a zigzag è semplicemente un elemento per far capire vagamente la distanza ma non c'è nessun elemento di proporzionalità fra le figure notate la dimensione della Madonna e del Bambino centrali e quindi con questa gerarchizzazione dimensionale rispetto a tutte le altre figure come non c'è nessuna collocazione corretta spaziale i tre angeli sulla tettoia a rigor di logica dovrebbero essere avanzate rispetto alla Vergine che è invece contenuta all'interno della caverna mentre invece a noi appare molto più vicina allo spettatore la Vergine per non parlare del girotondo di angeli che sono assolutamente ritagliati incollati sullo sfondo che ricordano la pittura del 300 in qualche modo non c'è nessuna c'è una stabilità una fermezza un congelamento delle figure che non ha nessun senso di naturalismo ci possono ricordare ciò che avviene molto prima o ciò che avviene molto dopo non lo so la pittura pre-Raffaellita per esempio quest'idea appunto di una pittura congelata che serve a trasmettere dei messaggi che da questo momento in poi appunto sono messaggi mistici qui si chiude la carriera di Botticelli